musica 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 io sono 0 non mi ha contato 2 headshot e ora faccio così guarda 1 2 3 e 8 4 un po' conto s stato bucciato in matematica scriviamo 10 buoni propositi per il prossimo anno numero 6 mangiare una pizza bene ci mancano solo due propositi per arrivare a 10 ok musica non mi direi che non l'hai mai visto quel video no no ho degli scott ex cacchio non lo viste 3 pochi video di loro che non l'ho visto probabilmente poi mi faccio dire all'amico mio come si chiama quel video probabilmente si chiama 10 buoni propositi per l'anno nuovo però dopo dopo devo cercare basta c'è il pullman ancora eh vabbè dai vista 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 la bomba si chi è una mattata no 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 mi sono incastrato dai aiuto sanguino da tutti i buchi possibili perchè ho costruito quel coso davanti al pullman mannaggia a me sì oggi i tuoi zombie o chi o tuoi zombie ok ok ho riconquistato la fiducia in me stesso beh io non lancio niente io sono proprio faccio così bravo e poi mi giro otto robò bravo bravo ma tu hai detto che hai il c'è un po' c'ero la vita il nordico per ieri morti per l'azione un ballo si si quando c'è il permanenter purete volendo c'è anche il coso il balistico potenziato quindi per rianimarti non è un problema dovessi morire nove volte prima di prendere le nuove munizioni posso rianimarti dieci volte te li volevo incularti ho appoggiato il joystick per te un attimo sulle gas hai distrutto tutte le nostre camor vabbè le rifettiamo vabbè è molto da fare si ma che cazzo però ho appoggiato il joystick sulla camorna mi date una mano ragazzi si vabbè ti fai ti non ho gettato il joystick d edo vipo vabbè 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 ho fatto tutti i zoppi non ho ucciso nessun zon poi mi capita la bomba vabbè dai ma non se ne va sto pullman che mi ha rotto leggermente il cazzo vero ma tipo un attimo io intanto controllo che registra perchè se no ma le porte sono aperte ecco il perchè eh ok mi sono a malapena avvicinato e ciao e ciao non so se li uccide abbastanza il pullman oppure bo that's the sound of the police ma tu hai il cazzo del muro no perchè la jackan e fino aperta la jackan non è un'arma è tipo la turbina ah è vero non è vero niente pulizia belle no scimmie tastiche un'altra scimmia c'è un instant lì l'ho c'ho l'ho c'ho l'ho c'ho vai vai tiro dei simi fucking my nigga oi non voleva morire via ti uccido di nuovo si ma è finito l'istanca sai non vorrei dietro no 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 capo vacca il suono della polizia guarda lo 701 per lui pronto a pezzare un nuovo claymore pa 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 che lecce c e c lo zon del portempo il mi riva con i doppi punti They see me rollin' They hearin' Ormai non me la riesco a levare alla capoccia Let it go Let it go No 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 Ok Che è successo Mi sa che la tua Sanchez mi ha salvato l'amo Allora mi devi un biscotto Morte hai mangiammerda Non volevo una Sanchez Eh ovvio di quello non posso darmi No 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 sono il critico Perché? C'è un instant qui Wow Non vuoi farlo Non vuoi farlo E hai visto di peggio Muori PUNCE Beh è ci peggio Fare il monello Mu 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 nel Allora parliamo di cose interessanti Sì fatti interroggiamo attenzione il signore tizio non voglio dire il suo nome bozzio è presente nel senso esatto, interrogazione di geografia, vieni alla lavagna e non posso stare giocando con la storia allora rimanga pure là però mi disponda alle mie domande come si nutrono i bambini nel nordafrica allora praticamente si mettono in posizione fetale dopo di che ingiriscono il cibo dall'ombelico lo mandano giù per l'intestino arrivati all'ano lo cagano poi lo rimettono nell'intestino fa il giro inverso risale su per l'esofago lo sputano poi con un dolphin dive lo rinseriscono in bocca e lo ricargano mamma mia ok basta così nell'interrogazione un bel 10 tanto non ho più altre domande e basta so che i bambini so che i bambini i bambini del nordafrica hanno modi strani per mangiare però d'altronde solo questo è il modo per spiegare come mai siano così debilitati esatto mi sembra una cosa giusta qui black humor a maniere oh oddio ok il personaggio è ho sparato con le mustang e se lì mi è passato davanti lo zombie sono andato in critico sono tutti il zombie c'è anche ok arrivo vai vai ne vado ne vado ne vado ne vado ne vado ne vado che giocatore no vabbè questa è colpa tua mamma se tu non avessi distrutto le meclemore io adesso starei ancora giocando per primo vabbè vabbè adesso vi tocca giocare con le mustang e se lì mi faccio danno prima invece era più bello con le claymore che implodevano aiuto 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 che era? doppi punti doppi che te ne frega oh munizze tiro le signa vai vai tira tira lescita aspetta ma non mi ricavane c'è il tuo padre gli altri e te le piglio no, ho parlato con le a vabbè vabbè ma ford no bello non le avevo previste ah no Ma neanche io infatti non ho capito quello che è successo nell'ultimo 20 secondi Il mio italiano è illegale in 5 paesi I cui 4 su 5 non capiscono neanche quello che dicono Ma ritengono sia illegale Ma fanno bene Non c'è una lingua per ritenere che sia illegale Ok, è giusto Dai, certo No, 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 ma perchè nei quelli gli zombie po? Ok, sono visto dire Ayaya, pensavo fossi in difficoltà Eh, no Il mio Ayaya nel senso, oh mio Dio, sono tanti, adesso li ho matto due Ah, ok Se mi caccia dai vai per noi, bello è uscirne Sarà ne un Ayaya Bomba, 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 la bomba sarà mia, calcolate qui No, l'ho mancata Ma dov'è sta bomba? Te la prendo io Eh, no, l'ho mancata te Ah, non sei riuscito a prenderla, è spagnita Oh Alla fine sei solo un poveraggio No, no, ma che cazzo Ma vaffanmi culo dai So salito sul, sul pullman Stavo questa lì sopra Mi hai fatto cascare su un po' finito Ciao, bobo No, non te ne andartene No, lo faccio C'ho così a random Dai ti copro Ho le mussten Guarda, guarda che rianimazioni, guarda che rianimazioni Le peggio rianimazioni Oh, troppo forte Ti ho levato il gruppo da niente Vabbè, però ti avrei animato comunque Cioè, magari non così facilmente ma ti avrei animato Secondo me... In mezzo agli zombie però Faremmo morti tutti Allora Io potrei di fermarci questo round Ma che cazzo Mi hai dato due colpi sono incredibili Ah, vabbè, ero caduto Ok, qua ho uno zombie nuovo, lo lascio Ma no, no, quello l'ho già ucciso Questo Eh Credo Gli ho dato due cortellate Vabbè Io vado Ah, fa che Dove è la cassa fatto? Ok Vado Dove vai? Una' attra cassa CheESTAMO no la voglio più Chiama Uh Eh la r vividly Fattoria Si No Ok se vuoi ucciderlo zombie intanto uccidivere Fa giù le mani a corto umano Eccolo! 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 Bellissimo! Un po' di cosa almeno l'Humry confronta l'RTD. Insomma... Resta Sandor of the Police. E che adesso uso solo la Reagun. Beh... un po' di più però... Nel caso dovevo sparare a random... ...com... ...un qualcosa... Per l'Ista anche io. Esatto. Vedo che capisci molto. Ehi, ehi, ehi. Con calma. Ok. Non ti insulto più. C'è che ti ha pensato alla natura. Ehi, le mie belle capisce! Questo che fai tanto simpatico, perché non partecipi a un concorso di bellezza? Eh no, non c'hai tu. Tanto qualcuno dovrà poi perdere. Dovrei avere paura! Oh... Anzi, ti dirò. Che qualcuno dovrà pure arrivare all'ultimo posto. Troppo bullo. Mamma mia, sta allaggando tutto. Perché veramente? Sembra una cosa piuttosto... no io però che a cortella... I... Sono proportionsi muori. No, 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 no... Oh, no, 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 no. Non lo so io. Boh, è più semplice teoricamente qui. Per me no. Io mi stavo anche stracolando. Io sono un lover. Sono un lover di... città. Uè. Vabbè, c'era l'autobus ancora. Si. Ci sta sempre. No, non è una... non è una gattiva idea. Poi dovremmo andare in città. Eh. Dai, andiamo. Quando? Ma adesso. Ma no. Chiudi le porte dell'autobus. Dai, mancano pochi zoom, facciamo anche andare. Ma quali pochi zoom? Pistol. No, 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 mi sto facendo uccidere. Dai, andiamo. Arrivo. Dai, questo è l'ultimo. Dai, dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai. No, perché vuole me? Non vuolirmi. No, non amarmi. Non amarmi. Fili. Guarda, poi ti odio. Da chi distanza l'ha preso. Ma che ne so, stava guardando da un'altra parte. Finissimo quanto è indeciso. L'aria. Aia, guarda che baldio. Dove? Qua Ah sì, sei attraverso la ruota Anche qui Ciao Ah ma è vero, ci sta quest'altra fermata prima Ci sta quest'altra fermata prima, è vero Ma non c'è ancora Vai, scendiamo Sta diventando il culo quadrato Magino Oh Vai a fare ancora Tu vai, io poi io Aspetta No Guarda 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 Sono perso, ok Ahim' arrivando Dove? In città Anch'io quasi Vedo le finestre Chi arriverà prima? Ah ma tu mi stai dietro? Oh my Io pensavo a me stavi tipo a fare i teletrasporti buggati La prossima volta io non vedo Ok ci sono Uccidiamo Abbiamo lasciato l'eroe Morling Vabbè 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 Tanto non le dovevamo usare quelle Vabbè È pronto? Vai Ah dobbiamo Proprio Così Siamo al prossimo round Se possiamo Arriverci Vabbè Vabbè Cominciato Così dal pochetto Mettiamo al sicuro I nostri risparmi Siamo al prossimo